Ieri sera si è chiuso il termine per la presentazione delle candidature in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, una trentina ai piacentini in corsa. Il 25 febbraio, ultima serata per la lupoleria, poi la chiusura per uno dei presidi commerciali e sociali della zona di Via Roma in città. Il Comune di Piacenza ha approvato le linee guida per il bando di gestione di Spazio 4, tra le novità richieste la sinergia con gli oratori. Grave incidente ieri sera sul ponte di Pievetta, automobilista ferito seriamente dopo lo scontro della vettura con i dissuasori di cemento che impediscono il passaggio dei camion. Amichevole di prestigio per la Vigor Carpaneto che giovedì a Vinovus fiderà la Juventus.